Non è stata forse ancora pienamente indagata la pagina drammatica e decisiva di storia del paese che intreccia quella della città di Brindisi. All'indomani dell'armistizio, siamo nel settembre del 43, la famiglia Reale, Badoglio e i vertici delle forze armate approdano qui a bordo di nave Baionetta, opportuno trasferimento o fuga in materia di dibattito per gli studiosi, e per cinque mesi da qui si tiene insieme sotto l'ombrello alleato il governo dell'Italia monarchica al tramonto, favorendo la genesi dell'Italia repubblicana. Per questo indagarla, esercizio da storiografi sì, ma dagli interessanti addentellati col presente. Nel rinascere quella enorme macchina burocratica, e poi la stessa macchina burocratica che ci portiamo a preso, che oggi Renzi vuole a tutti i costi, in fretta, rifare. Io non so se Renzi ce la farà a rifarla così in fretta. Dovrebbe però, ecco, quantomeno valutare quanta storia ha quella macchina amministrativa, e quante radici ha all'interno dell'Italia, e dove è nata e dove è rinata. Un contributo prezioso per fare luce su questa importante stagione è venuto dal convegno di studio organizzato a quattro mani da Rotary e Lions Club di Brindisi nel settembre scorso, a 70 anni da quell'approdo, proprio in questa sala reale dell'hotel internazionale, luogo testimone di quel momento storico. I lavori sono raccolti in un volume perché quell'esperienza sia patrimonio per le giovani generazioni brindisi, con l'obiettivo di un riconoscimento concreto, che Brindisi possa freggiarsi del titolo di già capitale d'Italia. Brindisi è riconosciuta solo come governo. E noi per questo ci stiamo battendo.